Un episodio particolare che mi piace raccontarvi è quando vi ho scritto noi che a Carnevale ci siamo vestiti da Giampolo e Palladini, stavamo in un bar a Pescara, vedevamo entrare tanti ragazzi travestiti dalle solite maschere di Carnevale che andavano a ballare. Io e un amico mio non ci pensavamo minimamente, però in quel momento un bicchiere in più, un bicchiere in meno, abbiamo detto, vogliamo andare a ballare pure noi, l'amico mio, ma da chi ci trovi steno? Facile, che me la cameretta mi viene, le mani del Pescara, il Giampolo e Palladini e siamo andati a ballare al mega travestiti da giocatori del Pescara con le scarpette da calcio. Il bello non è stato andare a traversarsi e durare tutta la serata con le scarpette da calcio ai piedi. Ovviamente eravamo quelli più fotografati di tutto il mega. Grazie, ciao!